Ciao a tutti, sono Enrico Bertolino e volevo ricordare alcune norme utili per evitare la diffusione del coronavirus. Ricordarle perché in molte le stanno già dicendo, però forse qua a ripeterlo non è male. Ad esempio la distanza. Manteniamo le distanze tra le persone in questo periodo. Io in questo caso allungo anche il telefonino, anche se il braccio è il mio, però manteniamo almeno un metro, un metro e mezzo di distanza tra le persone. Cerchiamo di evitare abbracci, baci, per quanto importanti, belle, le strette di mano, calorose, evitiamole. Ci sarà tempo poi per recuperarle, per adesso stiamo a debita distanza e aiuta questo a evitare la diffusione del virus. Una cosa importantissima, stiamo invece vicini, in questo caso soltanto moralmente, alle persone fragili, alle persone anziane, alle persone malate, a quelli che hanno bisogno di una parola di conforto, hanno bisogno di un aiuto. Cerchiamo di aiutarli sempre mantenendo la debita distanza, cioè stiamo vicini anche se siamo un po' lontani. E' importantissimo poi, mi raccomando, non perdiamo la calma, stiamo tranquilli, abbiamo fiducia perché torneremo nei cinema a limonare duro. Per cui facciamolo tutti, fermiamolo insieme. Grazie, Enrico Bertolino.